Ciao a tutti io sono Mirko e oggi vediamo come fare il bind del ricevitore FRSKY XSR. Oltre al bind, setteremo anche il failsafe. Colleghiamo l'XSR al flight controller poi alimentiamo il flight controller collegandolo al PC. Alcuni flight controller per alimentare il ricevitore hanno bisogno di essere collegati ad una batteria lipo, altri invece come questo riescono ad alimentare il ricevitore anche solo dalla porta USB. La luce rossa lampeggiante indica che il ricevitore non è ancora bindato. Comunque adesso rimuoviamo il cavo USB perchè non ci serve ancora. Accendiamo la Taranis e clicchiamo il tasto menu, poi andiamo alla pagina 2. Giriamo la rotella in senso anti-orario fino ad arrivare a Internal RF. Quindi su MOD dobbiamo scegliere D16, clicchiamo ENTER, giriamo e selezioniamo D16. Scendiamo fino a BND che significa BIND e clicchiamo ENTER. Sentiremo questo suono. Prendiamo il ricevitore e premiamo il tasto failsafe che si trova qui, quindi alimentiamo il flight controller. Come vedete abbiamo un LED verde solido e uno rosso lampeggiante, quindi possiamo rilasciare il bottone failsafe e cliccare ENTER sulla Taranis. Ora rimuoviamo il cavo USB, lo ricolleghiamo e come vedete abbiamo solo una luce verde solida che significa che l'XSR è correttamente bindato. Se a questo punto della procedura avete sia il LED verde che quello rosso sempre accesi significa che c'è un incompatibilità firmware tra radio e ricevitore. Bisognerà quindi cambiare il firmware al ricevitore, in un prossimo video vedremo come fare. Settiamo il failsafe, giriamo la rotella fino ad arrivare a NOT SET, quindi clicchiamo ENTER. La prima scelta è HOLD che significa mantieni l'ultima posizione nota ed è la scelta più sconsigliata che non va mai selezionata per i mini quad racing o acrobatici. Poi abbiamo CUSTOM che significa personalizzata e ci dà la possibilità di scegliere noi che valore dare gli stick quando il quad andrà in failsafe. Infine abbiamo NOPULS che è la scelta consigliata per i mini quad racing o acrobatici. Con NOPULS quando il ricevitore e la radio perderanno la comunicazione tra loro, il ricevitore smetterà di mandare qualsiasi segnale al flight controller. Il risultato sarà che il quad non avrà più nessun impulso e semplicemente cadrà a terra, che come abbiamo detto è l'opzione migliore. Questo era il mio tutorial su come bindare il ricevitore FRSKY XSR. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Grazie per aver guardato il video, non dimenticate di iscrivervi al canale. Grazie a tutti